Siamo all'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, la sede INAF dove è in servizio l'astrofisico Ciro Pinto, coautore di uno studio in pubblicazione oggi su Nature Astronomy che riporta un'importante scoperta sull'astrofisica dei buchi neri supermassicci ottenute grazie allo strumento EPIC dell'XMM-Newton dell'ESA. Dottore Pinto, di che si tratta? Quali risultati ci sono? Si tratta di una scoperta molto interessante sui buchi neri supermassicci. L'utilizzo per la prima volta di una tecnica particolare che ci ha permesso di misurare parametri importanti di un buco nero, quali la massa di questo oggetto, ci fa capire le dimensioni, come si muove questo oggetto e quanta materia sta divorando dalla zona circostante. Di che tecnica si tratta? Si tratta di una tecnica che utilizza la variabilità dell'oggetto in questione. Noi intanto cerchiamo di capire cosa sono questi buchi neri. Sono oggetti giganteschi che divorano materia dalla galassia o da stelle vicine. La materia viene attirata verso il buco nero a causa della elevata gravità e a causa della rotazione della galassia la materia forma un disco attorno al buco nero. in questo disco la materia subisce un riscaldamento a causa dell'enorme frizione, un po' simile a quando noi ci sfreghiamo le mani. Viene riscaldata a temperature di milioni di gradi e così viene emessa radiazione X. Noi studiamo questa radiazione X proveniente dalla materia attorno al buco nero per avere informazioni sul buco nero stesso. In questo caso in particolare cosa avete studiato? Si parla di echidi, riverbero della luce emessa dal gas in caduta con quella nei dintorni. Che informazioni avete ottenuto? Noi vogliamo principalmente comprendere la geometria del gas attorno al buco nero. Per comprendere la geometria bisogna cercare di distinguere zone diverse. Il buco nero sarà caratterizzato da un disco di accrescimento di materia e nelle zone interne che sono più calde c'è un gas che noi chiamiamo corona perché è in una condizione fisica simile alla corona di gas attorno al sole. Per separare queste regioni nel disco e più vicino nella corona bisogna distinguere i vari processi e questo lo si fa mettendosi nello spazio delle frequenze. Quindi noi abbiamo estratto curve di luce, ovvero la variazione del flusso col passare del tempo e tramite trasformate di Fourier ci siamo spostati nello spazio delle frequenze. In questo modo ci siamo riusciti a dissociare tramite lo studio di varie frequenze regioni via via sempre più interne a quella del buco nero. Un'analisi temporale come noi la chiamiamo. E abbiamo cercato di misurare la differenza temporale tra il flusso di luce che ci viene dalle regioni interne che viene messo nella banda X a più alta energia, ovvero gli X duri e il ritardo temporale tra questo flusso e il flusso che ci viene dalle regioni più esterne, più fredde che quindi domina la banda X soffice a più bassa energia. tramite lo studio del ritardo temporale tra queste regioni diverse noi siamo riusciti a comprendere la geometria del gas attorno al buco nero. Quindi se ho ben capito il gas che cade all'interno del buco nero emette luce X che rimbalza con il gas contenuto nei dintorni nel disco di accrescimento e nella corona del buco nero e voi mappando, osservando la variazione nel tempo di questa luce emette praticamente ottenuto un filmato dell'ombra di un buco nero. Esatto, noi abbiamo un flusso di luce che viene dalle regioni interne che può rimbalzare tramite il fenomeno che noi chiamiamo della riflessione sopra il disco, quindi i raggi X di energia elevata vengono riflessi dal disco in una banda energetica più debole e il ritardo temporale tra la radiazione primale e la radiazione riflessa ci dà la dimensione del disco di accrescimento. Lo studio poi di altri fattori ci permette anche di misurare la massa di questo oggetto che è risultato essere dell'ordine di 2 milioni di masse solari, quindi appunto stiamo parlando di un oggetto molto elevato e lo studio di altri parametri nello spazio di Fourier ci ha permesso anche di scoprire quanto velocemente sta ruotando questo oggetto. Noi quando parliamo della rotazione di buco nero utilizziamo un parametro che si chiama spin e lo spin di questo oggetto è estremamente elevato il che ci fa capire che il buco nero non solo curva lo spazio attorno ad esso ma se lo trascina con sì a casa dell'elevata velocità. Questo è un buco nero supermassiccio all'interno di una galassia attiva di quelli che voi chiamate active galactic nuclei. Questa tecnica che voi ha utilizzato il mapping con riverbero è possibile utilizzarla per altri buchi neri supermassicci all'interno di nuclei galattici attivi? Noi riteniamo di sì è vero che la tecnica è piuttosto nuova però noi crediamo già sia matura e a sufficienza e richiede fondamentalmente due tre requisiti il primo è che il flusso del buco nero deve essere variabile col passare del tempo perché la variabilità ci permette di rompere le generazioni ovvero le confusioni tra i vari modelli e quasi tutti i buchi neri sono variabili secondo abbiamo bisogno di un numero sufficiente di dati per rompere i segnali di confusione dovuto al rumore e quindi fondamentalmente si può applicare con questi strumenti attuali come per esempio il satellite dell'aesa x mm newton su decine di buchi neri fino a distanze di 100 megaparsec insomma si può applicare per tanti buchi neri qualora il metodo fosse standardizzato potrebbe essere utilizzato anche dal dal nuovo osservatorio per raggi x che dovrebbe essere lanciato nel 2030 stiamo parlando di atina esatto atina che il telescopio più potente nella banda x che rivoluzionerà l'astronomia nelle alte energie avrà capacità nettamente superiore a tutti i satelliti attuali e la capacità di raccogliere fotoni alla banda x sarà di dieci e più volte superiore ad x mm newton questo vuol dire che questo studio di buchi neri di massa di buchi neri e sarà possibile farlo non più per decine ma per centinaia di buchi neri super massicce forse la cosa più importante da notare è che sarà possibile farlo per oggetti più più distanti e quindi anche più antichi ovvero studieremo l'evoluzione e la crescita dei buchi neri dal big bang fino adesso sarà l'unica maniera forse per comprendere come si sono formati questi mostri giganteschi di milioni fino a miliardi di masse solari quindi è uno studio che potrebbe darci informazioni importanti non solo sulle galassi che questi buchi neri super massicci li contengono ma anche sull'evoluzione dell'universo esattamente è uno studio cosmologico noi sappiamo che ci sono delle relazioni tra la formazione dei buchi neri e delle galassie stesse quindi comprendere come si sono evoluti questi buchi neri e che effetto hanno sulle galassie circostanti è importante per comprendere l'evoluzione dell'universo stesso fino ad oggi alla prossima